Ciao ragazzi, benvenuti al mio salotto, sono super contenta perché sono qui con Eloisa Antoniozzi del Vivaio Pugliesi, esattamente, benvenuti nel mio salotto, grazie, grazie a te dell'invito, grazie a te, è onorata di essere qua, e noi siamo qui ragazzi di parlare delle piante, allora andiamo innanzitutto a spiegare chi è Eloisa, io e Eloisa ci conosciamo per Super Jump, siamo Super Jumpers, siamo insegnanti, amiamo lo sport, allora stiamo parlando, trasportivi, ma la famiglia di Eloisa lavora anche con le piante, con una vivaio molto importante, molto importante a Binganello, ci puoi spiegare come è nato questo progetto da 10 anni da questa parte? Esattamente, guarda la nostra famiglia lavora nell'ambito delle piante da più di 40 anni, quindi ha avuto una grande evoluzione da un piccolo negozietto di fiori, diciamo, poi il papà dei miei colleghi e dei miei cognati ha aperto questo negozio per continuare la tradizione, essendo quattro fratelli maschi abbiamo deciso di improntarci su questo discorso più ampio, perché comunque è tutto un altro lavoro delle piante, la coltivazione, non è solamente la vendita o la... infatti l'ho visto perché ci siamo scoperti durante un bellissimo evento a Vignanello, dove abbiamo fatto Freedom, dove abbiamo fatto Super Jump, come sicuramente l'avete visto qua sul canale Energy, che abbiamo parlato di tutto questo, ma il vivaglio, il vivaglio è molto importante, è molto grande, è anche particolare, perché quello che mi ha colpito del vivaglio stesso è che voi non trattate soltanto le piante classiche, no? Cerchiamo di essere sempre aggiornati, perché poi le piante sono in continua crescita, in continua evoluzione, tante varianti e tante cose benefiche che escono fuori anno dopo anno e cerchiamo sempre di essere molto aggiornati, poi i clienti sono molto esigenti, quindi cerchiamo sempre di accontentarli al meglio. Allora, io Anna e Luisa spero comunque che ci vedremo molte volte, perché io penso che come voi, io adoro le piante, ma non sono capace con le piante perché ognuno ha il suo, io ammetto le mie difficoltà, ammetto anche le mie mancanze e la cosa importante ragazzi è avere degli esperti che possono aiutarci a capire meglio e in queste puntate, perché ci saranno più puntate, andremo a scoprire non solo le piante benefiche e il loro effetto benefiche sulle nostre vite, ma anche come curarli. Allora, onestamente, sono l'unica che ha un pollice nero o viola o arco beleno, ma non verde, o tante persone hanno le mie parole? Io penso che sia più che altro una questione di paura, perché le piante sono vive, quindi magari c'è la paura di farle male, invece bisogna essere affettuosi con le piante, avere un rapporto proprio umano e vivo, perché comunque sono esseri viventi come noi e quindi io con le parli, con le piante ci parlo, sento proprio questo contatto che tra di noi c'è ovviamente nel divaglio tutte le mattine, c'è da dare il buongiorno a tutti. Ma che bello! Diamo buongiorno alle piante! Ma poi si offendono! Ma no, si offendono! Allora, posso dirti una cosa, Eluisa, te lo dico, onestamente quando sono al fruttivendolo, io scelgo l'ortaggio a volte un po' bruterello perché c'è paura che qualcuno non lo porta a casa, ok lo so ragazzi, però anche i miei cani, avete visto i miei cani sono meravigliose creature a quattro zampe, però sono un po' sbilenchi anche loro, perché io penso comunque che la vita va apprezzato, va coccolato, perché secondo me c'è tantissima bellezza là fuori, però ritorniamo sulle piante, allora le piante sono vive, non dobbiamo avere paura delle piante, allora se noi dovessimo parlare con i nostri amici a casa che vogliono affrontare una pianta, vogliono le piante in casa, andiamo per gradi di difficoltà, allora io se voglio prendere confidenza con le piante, voglio prendere confidenza con una piante, qual è una bella pianta da casa, ruspante, cioè molto resistente per uno come me, allora ce ne sono diverse tipologie, dal potos, che è una pianta che scende, a cui non serve tanta terra, tanta acqua, quindi cresce bene da sola, anche lo spadifilium che è una proprietà purificante dell'aria, quindi in casa è molto interessante avere. Posso farti questa domanda? Allora se io tengo le piante in casa, l'effetto benefica per l'ambiente, che cosa potrei notare? Più ossigenazione? Più ossigenazione, ma sicuramente anche l'atmosfera che danno proprio le piante del verde, della luminosità, della vita, di come ogni giorno sono diverse, perché come le lasci la sera non le ritroverai mai la mattina, perché anche loro cambiano, crescono, hanno bisogno di manutenzione, di cura... Poi ti dico un'altra cosa, non so se tu lo sapevi, ma io lavoro con la fotobiomodulazione, cioè la luce che può aiutare anche la pelle, ok? E si dice che il colore verde è un allenativo rilassante. Io secondo me, vado adesso al naso perché non ho la scienza sotto, ma secondo me tenere le piante in casa, che hanno questa fonte di verde, che hanno questa fonte, secondo me ci rilassa. Sì, ma danno proprio pace, un senso di serenità, di rilassamento, di tranquillità. E questa è una cosa molto importante, perché ragazzi ricordate che quando noi siamo stressati produciamo un ormone chiamato il cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress, purtroppo rallenta il metabolismo, il metabolismo che viene rallentato può comunque, il cortisolo che è cugino lontano del cortisone, comincia a farci ingrassare sulla pancia e ritenere liquidi ed è anche una catabolizzante, cioè ci fa perdere la massa magra. Così, perché molte persone, Eloisa, sai che cos'è che dicono? Sono stressato, come posso destressarmi? Ovviamente abbiamo anche i fitoterapici che ci aiutano, ma secondo me più riusciamo a mettere piante in casa, secondo me anche riusciamo a ridurre lo stress dell'organismo. Secondo te? Sì, secondo me è anche una forma di cura, un benessere personale che trasmettiamo alle piante, quindi prendendoci cura di una pianta è come se noi ci prendessimo cura di noi stessi, quindi è una cosa che ha un senso di guarigione, è una forma anche curativa quella di accudire le piante per accudire se stessi e quindi dare proprio importanza. Io vorrei anche aggiungere una cosa, secondo me molti dei nostri amici là fuori, magari per lavoro o per la casa o per tantissimi motivi delle condominio, le regole di condominio non ti permettono un animale domestico. Io secondo me sarebbe anche opportuno che i nostri amici vedano la pianta come un mascotte, come un animale da accudire. Sì, come una persona, come una figura nella nostra vita che è presente e che comunque c'è, che ha bisogno di cura appunto. No, è bellissima quella di Aloisa perché tu vedi che ogni, cioè io sono sicura che tu la mattina nel bivaglio tu saluti le piante. Allora per esempio qua abbiamo un bellissimo esemplare di aloe e poi andremo a parlare anche delle ginkgo biloba che è un bellissima pianta curativa e con questo viaggio con Aloisa e anche con il bivaglio pugliesi andremo a scoprire le piante, come curarli, come potarli anche e poi anche come travasarli, quando è tempo di travasarli, insomma andremo a scoprire un sacco di cose insieme che secondo me sono molto importanti. Allora io volevo parlare sempre dello stress, noi abbiamo detto che le piante ci aiutano a ridurre lo stress ed è anche su un livello secondo me proprio attavico, ci fa tornare come i nostri avi che divengono bravi, le semplici cose, la terra. Infatti voi quando fate una passeggiata anche al calare del sole o mezzo ai boschi, ditemi che non vi sentite rilassati, perché non facciamo o ri-replichiamo più possibile questo ambiente nella nostra casa, no? Certo, certo, perché è come se l'atmosfera delle piante ci avvolgesse, ci dà quel senso di pace, di tranquillità che è proprio quello che esprime la natura in per sé stessa perché ha bisogno dei suoi tempi e quindi è tutto più calmo, è tutto più rilassante. E ricordate sempre dell'importanza di ridurre lo stress nel corpo, allora stress block, noi stiamo parlando di fitoterapici perché il cortisolo che ha il rischio di farci ingrassare, il rischio di farci mettere più chili sulla pancia, è ovvio, la nutrizione è fondamentale, e il movimento è fondamentale, però con un fitoterapico come stress block dove c'è l'ashwagandha, c'è la grifonia e c'è la nostra fosfetidilzerina che aiuta a ridurre la produzione del cortisolo nel corpo, noi possiamo prendere uno stress block che ci aiuta a ridurre lo stress nell'organismo, rilassando la parte simpatico. Ma poi parliamo, io quello che è la verde terapia, c'è l'orto terapia, come vogliamo chiamare questa terapia? Il Green Therapy è l'introduzione appunto degli orti condivisi dove appunto chi non ha lo spazio e la possibilità di vivere all'aria aperta o comunque di godere del proprio giardino, uno spazio verde in casa, sono stati creati appunto questi orti condivisi dove si prende cura appunto degli ortaggi e da lì si vede la trasformazione della pianta come quando l'accudisci poi dai suoi frutti, le sue soddisfazioni e quindi è benefico sia per il fisico perché comunque fare movimento all'aria aperta è totalmente benefico e poi anche per il nostro amor proprio perché comunque sono soddisfazioni che ci regalano la natura e valgono molto di più. E poi diciamo un'altra cosa che quando cominci proprio il giardinaggio, cominci a mettere le mani nella terra, innesca qualche cosa primordiale e ti rilassa così, è un viaggio che stiamo facendo insieme, è un viaggio che sono molto contenta da interprendere qua con Eloisa e con voi perché qua su Energy qual è la nostra missione? La nostra missione è guardare il benessere a tutto tondo, c'è movimento? Certo, ma non è solo movimento il benessere perché con Green Therapy, Green Therapy, noi abbiamo la possibilità di ridurre lo stress, dormiremo meglio, ci aiutano le piante a desintossicare l'ambiente, questo ci aiuta a vivere proprio senza body burden che vuol dire sovracarico di tossine nel mio corpo, mi aiuta a detossinare, mi aiuta a vivere bene e con Eloisa e con di Vaglio Pugliese andremo a scoprire puntata dopo puntata e tante 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 belle cose sulle piante, grazie Luisa, grazie a te, sei pronta? Poi noi passiamo avanti un'altra puntata e voi non cambiate canale perché siamo sempre qui su Energy per parlare delle piante.